Pinocchio, uno dei simboli della Toscana nel mondo, sarà celebrato con tre giorni di eventi in occasione del senza fili Pinocchio Street Festival, che andrà in scena dal 9 all'11 settembre a Collodi. Tre giorni dedicati alla Toscana, tre giorni dedicati a valorizzare ancora una volta uno dei nostri segni tratti distintivi. Pinocchio è questo, Collodi è questo. Quella parte del territorio è un momento prezioso della nostra comunità, della nostra cultura, della nostra tradizione. Un'immagine conosciuta nel mondo, apprezzata, che va però sostenuta, valorizzata, va tenuta viva. Lo facciamo con questa iniziativa che coinvolge tutto il borgo, tutta la comunità e che vedrà per tre giorni quelle strade piene di vita. Il festival, che avrà come protagonista il burattino della celebre favola di Carlo Collodi, vedrà oltre 50 spettacoli tra teatro, circo e musica, con gli artisti di strada che per tre giorni riempiranno il parco e il giardino di Villa Garzoni. Tre giorni con una programmazione che è per qualsiasi tipo di pubblico, quindi il pomeriggio con le famiglie, bambini eccetera, la sera invece con spettacoli di livello sia dal punto di vista del teatro, dell'offerta musicale, grandi presenze, insomma citiamo l'apertura con Paolo Nani che è uno dei più grandi interpreti del teatro comico internazionale. Viene con uno spettacolo che è stato replicato, pensate, più di mille volte in 32 paesi del mondo, per cui nel splendido giardino di Villa Garzoni sarà un momento particolare della rassegna. E poi sorprese a non finire nei tre luoghi d'eccezione che sono appunto il giardino, anche il parco di Pinocchio e il castello sul quale puntiamo tanto anche con azioni performative, provocazioni. Il pubblico sarà protagonista, sarà coinvolto e sarà diciamo l'elemento trainante e anche portante di questa manifestazione molto particolare. La maggior parte del programma è a ingresso gratuito. Per informazioni visita www.senza-fili.it